Allora siamo qui a Fiumignano con i ragazzi della terza ora, Kevin, Paolo, insomma adesso li vedrete tutti e chiederemo a loro cosa vi sembra di questo corso, Thomas? Beh, è bello, mi sono divertito. Ti piaceva? Sì, sì. Kevin? È bello, è interessante. Lo rifarai, diciamo. Sì. Mattia? Bello, figo, lo rifarò. Bravo, grazie Mattia. Mi sono divertito. Sì, è un'occasione molto importante e quindi penso di rifarlo. Ah, bene, bene. Giosuè? Beh, per me è stato un anno bellissimo, con i maestri super figli. Grande Giosuè, grandissimo. Lo farò sicuramente. E invece tu Paolo? No, secondo me c'è schifo il corso. Come c'è schifo? Proprio schifo? Sì. Terribile? Sì, terribilissimo. Tornerai? No, mai più. Ah, ok. Ok, vabbè, comunque noi siamo aperti a tutte le opinioni, tutti quanti possono dire qualcosa, c'è un ragazzo che si è trovato male, ma comunque noi lo rispettiamo e non gli facciamo fare niente. Ecco, come potete vedere, tranquillamente può dire quello che vuole. Grazie a tutti, grazie ragazzi e ci vediamo alla prossima.